Diamo il microfono dopo al prossimo relatore che è questo signore che si chiama Benedetto Ponti che è un altro professore dell'università di Perugia in cui insegna diritto e in particolare tutte quelle che sono le norme che riguardano proprio il mondo della comunicazione dei media quindi è un esperto anche delle nostre cose e in più Benedetto si è occupato direttamente dell'introduzione nel nostro paese di quello che si chiama FOIA ovvero il Freedom of Information Act che è uno strumento che teoricamente dovrebbe servire moltissimo alla nostra categoria perché libera l'accesso ai dati e quindi ci permette di avere accesso a informazioni che normalmente non sarebbero raggiungibili e quindi dovrebbe facilitare il nostro lavoro invece nonostante una lunga battaglia di cui anche noi di LSD siamo stati promotori e nonostante si sia arrivati poi finalmente a introdurre questa legge anche nel nostro paese che era rimasto uno degli ultimi al mondo a non avere la possibilità di dare libero accesso ai dati questa norma è rimasta lì, è rimasta abbastanza sospesa i giornalisti non la usano, non fanno richieste di accesso FOIA che sono appunto queste richieste che ora Benedetto ci spiegherà in modo dettagliato ma soprattutto, no non ci spiegherà l'accesso ma ci spiegherà il come utilizzarle non in modo dettagliato vabbè e però insomma bisognerebbe rilanciarla questa questione perché se vogliamo anche dal punto di vista giornalistico maggiore trasparenza beh insomma noi siamo un tantinello coinvolti nella questione quando vuoi non ci sei ancora, no perché sei online giustamente a proposito di privacy e accesso ai dati riservati non ha problemi, ok quella Belinda un futuro nel cabaret, al di là del giornalismo ce lo potremmo anche bisogna un attimo darsi da fare come si dice ecco siamo abbastanza vicini visto che siamo arrivati all'università no eh, ancora siamo comunque finisce nei termini anche se comincia il ritardo questo ce l'ha assicurato anche perché andiamo poi a pranzo anzi prima di pranzo poi ci sarà Marco Bobbio che farà un breve annuncio proprio per, come dire, annuncio di servizio per sapere dove andare a mangiare insomma poi lo dirà lui, io non sono all'altezza mettiamo la password oramai, potremmo divulgare direi che però è partita no, siamo sempre su Outlook non è partita non so più che dire io ti giuro ho un attimo difficoltà a questo punto se tu me l'avessi fatto fare prima eh oh, è chiaro che è sempre colpa mia non ti preoccupare ovvia, ci siamo oh adesso si deve caricare quindi mica abbiamo finito uno schermo intero eh sì ce l'abbiamo fatta ehm rapidamente chi di voi sa che cos'è il foglia chi di voi sa che cos'è l'accesso civico benissimo quindi la pallina gialla in alto la pallina in alto a destra gialla dove c'è scritto che cos'è si giustifica perché mi pare che la domanda la domanda ha un senso speravo che ne avesse un pochino di meno ma va bene che ne so un 30 e 70 va bene no, in realtà non sono affatto stupito adesso vi farò anche vedere dei numeri che confermano il fatto che i giornalisti italiani non solo non usano il Freedom of Information Act il diritto di accesso generalizzato quella cosa che ha inserito nel nel decreto 33 del 2013 che è quella legge che impone alle amministrazioni di pubblicare una serie basta di informazioni anche il diritto di accesso generalizzato ce l'ha messo ehm la legislatura scorsa in particolare l'iniziativa era della ministra Madia l'acronimo foglia significa Freedom of Information Act perché il modello è una legge statunitense del 66 poi ripresa in Europa lungo insomma un arco di tempo non breve considerate che l'Italia è l'ultimo paese che lo ha lo ha adottato dopo vi farò un esempio di un paese che lo ha adottato molto tardi ma con un buon successo ed è questa cosa qui si riconosce un diritto a conoscere le informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni non dei pubblici poteri in generale perché tendenzialmente il Freedom of Information Act ha a che fare con uno dei pubblici poteri l'amministrazione pubblica cioè riconosce adesso poi vediamo a chi riconosce una pretesa conoscitiva che è una cosa diversa da tutta una serie di strumenti che esistono già nel nostro ordinamento che consentono alle persone di andare dall'amministrazione e chiedergli un'informazione perché ne hanno bisogno ad esempio per difendersi nel corso di un processo oppure per evitare di essere espropriati di un terreno e così via cioè il Freedom of Information Act non risponde ha un'esigenza ha un bisogno di difendersi o di tutelarsi e non risponde nemmeno in termini riflessi al fatto che il legislatore in Italia ha cominciato nel 2000 poi li ha cresciuti sempre di più ha imposto alle amministrazioni di pubblicare una serie di informazioni per cui qualcuno ha deciso che cosa noi dovevamo sapere era utile che noi sapessimo e non è nemmeno una cosa che va di grazia attualmente e che passa molto spesso sotto il termine di trasparenza e che trasparenza non è e cioè quello che qualcuno ritiene che sia opportuno che tu sappia e lui benevolmente te lo dice te lo concede la cosiddetta trasparenza octroie insomma guarda questa cosa secondo me ti serve che di solito è un meccanismo di legittimazione no il Freedom of Information Act è un diritto nel senso di pretesa conoscitiva perché io quella cosa la voglio sapere l'unica motivazione sufficiente è il fatto che io voglio un atto di volontà conoscitiva io quell'informazione che l'amministrazione ha la voglio conoscere e questa pretesa dal dicembre del 2016 il nostro ordinamento la copre con un diritto che è questo qui che è l'unico le uniche quattro righe di legge che ho messo in questa presentazione per chi è interessato l'articolo 5 secondo comma del decreto legislativo 33 del 2013 come modificato nel 2016 chiunque ha diritto di accedere ai dati ai documenti detenuti della pubblica amministrazione ok cioè non stiamo parlando di tutta una serie di strumenti attraverso i quali per percorsi complicati ma bisogna giustificarsi ma qualcuno deve no io lo voglio sapere tu ce l'hai te lo chiedo tu me lo dai ok non è solo un diritto nell'acronimo foglia c'è la parolina freedom perché c'è freedom perché chi chiede ha anche il diritto di scegliere che cosa conoscere non c'è qualcuno che ha stabilito che cosa è bene che qui il termine di libertà è usato proprio nel termine nel suo significato di libertà di io come dire esercito una volontà conoscitiva e decido io che cosa voglio conoscere non c'è qualcun altro che ha stabilito che cosa è opportuno che io conosca che è una cosa assolutamente fondamentale perché quando qualcun altro decide che cos'è che noi abbiamo diritto a conoscere è complicato attivare una dinamica dialettica con questo soggetto perché quanto possiamo conoscere che cosa non lo stabiliamo noi lo stabilisce qualcun altro nel nostro ordinamento ci sono molti strumenti che assicurano una conoscenza perché qualcun altro ci deve far sapere qualcosa per esempio se andate al supermercato qualsiasi alimento comprate c'ha una targhettina dove c'è scritto gli ingredienti ci sono una serie di informazioni che quei soggetti ci devono dare lo abbiamo stabilito noi? no è una legge che impone a chi vende generi alimentari che deve informare su qualcosa se volete investire in borsa avete il diritto di vedere i bilanci delle società che sono quotate in borsa cioè non è che non ci sono nell'ordinamento una serie di strumenti attraverso i quali noi abbiamo diritto a conoscere perché qualcun altro ci deve far sapere ok? questo è assolutamente normale qui stiamo parlando di qualcosa di diverso perché qui la dinamica conoscitiva muove da noi siamo noi che vogliamo conoscere e l'ordinamento ci dice vuoi conoscere hai il diritto di farlo là ci sono una serie di informazioni dice la legge tutti i dati e i documenti detenuti della pubblica amministrazione e tu hai il diritto di chiederli questo strumento ce l'hanno in mano tutti dice la legge chiunque cioè visto che qui stiamo parlando di uno strumento a disposizione dei giornalisti non è uno strumento a disposizione solo dei giornalisti questo è uno strumento che può usare potenzialmente chiunque domanda e quindi perché dovrebbe interessare un giornalista se è a disposizione di tutti per le ragioni che cercherò di dirvi ma che forse sono intuibili il fatto che io posso conoscere delle informazioni non significa che io sia anche in grado di sapere quali informazioni sono interessanti dove andarle a cercare che cosa farci dopo questo è il proprio un professionale dei giornalisti è questo che questo strumento è così interessante per chi fa la professione del giornalista perché quella materia prima non è che la sanno usare tutti non è che tutti hanno la stessa capacità di metterla a profitto però è importante che sia a disposizione di chiunque perché ci mette in una come dire in una condizione di eguaglianza noi sapremo approfittarne noi scusate io non faccio parte della categoria faccio un altro mestiere ma comunque di diritto di conoscere anche nella mia professione ce n'è sempre tanto bisogno io ho già l'usato un po' di volte per il mio mestiere quello di chiedere ottenere accesso ai dati della pubblica amministrazione se noi saremo bravi a farlo non perché abbiamo diritto solo noi cioè è un diritto da mettere a frutto ma è importante che sia a disposizione di tutti perché altrimenti non sarebbe effettivamente un diritto di libertà sarebbe come ho scritto qui un un privilegio che cosa ci potete fare il Freedom Information Act è uno strumento di lavoro banale proprio basta non è un'altra cosa per questo avevamo pensato con Marco di intitolare questa questa presentazione oltre il mito qui vedo che il mito non è neanche comparso all'orizzonte ma va bene vediamo in che modo può servire questo l'avete già visto stamattina allora banalmente i giornalisti raccolgono informazioni le selezionano le impacchettano stabiliscono che cosa è di interesse comunicano attraverso una serie di canali quindi questa cosa comincia con la raccolta delle informazioni cioè ci vogliono le fonti sto dicendo una serie di banali allora il FOIA è una fonte di informazioni una fonte in più come è normale che sia ognuno ha le sue fonti se le è procurate se le coltiva le gestisce come meglio crede sempre questa gestione implica uno scambio una negoziazione con chi innanzitutto con la fonte perché se io mi voglio procurare delle informazioni o sono sul posto mentre accade qualcosa e già lì ho dovuto negoziare perché se magari sto in una redazione qualcuno mi ci deve avere o io gli ho chiesto di andare e mi ha detto di sì già c'è stata una piccola negoziazione se non è così c'è qualcuno che mi racconta qualcosa e con questo soggetto io poi vedremo se ci riesco vi faccio vedere un esempio che ha a che fare con il FOIA ci devo entrare in una relazione che comporta inevitabilmente un qualche scambio io te lo dico però oppure io te lo dico perché io te lo dico va bene allora la caratteristica del FOIA è il fatto che non c'è da fare nessuna negoziazione è un diritto non devo scambiare qualcosa che non significa quindi che tutti gli altri strumenti non vanno bene ma che questo ha una caratteristica distintiva che può completare il quadro delle informazioni il quadro delle fonti ho anche la possibilità di ottenere determinati dati semplicemente perché li voglio ottenere non è poco seconda cosa che posso fare col FOIA mi può specializzare ci sono tutta una serie di informazioni che l'amministrazione conserva che se sapute utilizzare in modo opportuno consentono di occuparsi di singoli temi più o meno ampi nel tempo acquisendo una competenza e una consapevolezza differenziale rispetto a chi quelle informazioni non se le è procurate perché magari non ha usato il FOIA ed era l'unico modo per farlo che consente di produrre informazione utile perché è utile perché mette insieme dati conservati da qualche parte da qualche parte e mortili ai quali il giornalista come mediatore riesce a dare un significato questo è semplicemente un esempio per farvi vedere che attraverso un uso strategico del FOIA si può trasformare un'informazione che viene resa disponibile dal Ministero della Salute sulla copertura dei vaccini a livello regionale per cui io so che in Lombardia nel 2013 la copertura era del 90% ma in Lombardia ci stanno 10 milioni di persone che dato è che cosa mi dice questo giornalista andate su Wired è facile si trova facilmente questa serie di articoli questo giornalista ha fatto richieste foglia alle ASL le ASL hanno risposto e ha costruito una infografica in cui i dati sono a livello provinciale anzi a livello distrettuale distretti sanitari e a quel punto in Lombardia si vede che in provincia di Varese siamo sopra il 95% in provincia di Sondrio siamo sotto l'80% e quindi il dato regionale diventa meno significativo poi vi spiego perché ho fatto fatica a trovare qualche esempio in italiano di uso del foglia alziamo alziamo il volume sì è quello che volevo provare a fare no volevo accertarmi che fosse al massimo sentite questo è l'autore di quegli articoli sui vaccini adesso vi faccio ascoltare un minuto questo è il suo intervento al glocal dell'anno scorso del 2017 in cui racconta quello che gli è successo nel chiedere questi dati agli uffici stampa delle ASL scusate una cosa che ho dimenticato di dire è che è una critica ad alcuni colleghi degli uffici stampa che vabbè siamo tra colleghi un po' di autocoscienza la possiamo la possiamo fare mi chiama un giorno mando le richieste a foglia mi chiama l'addetto stampa di una regione non vi dico quale che mi dice ma perché hai fatto la richiesta a foglia perché volevo avere i dati ma se li chiedevi a metterli li davo io non c'era problema però adesso le avessi chiesti a me te li avrei dati subito adesso che li hai fatti con il foglia te li diamo con i tempi cioè i 30 giorni che è un ricatto tra virgolette un po' sottile un po' vile qualcuno ha come dire vissuto come una sorta di aggressione il fatto di vedersi arrivare a una richiesta a foglia cioè come se sottointeso ci fosse ti ho chiesto i dati non me li hai dati e quindi arrivo con con l'arma del foie in realtà non era così però c'è stato anche questo tipo di di reazione che è un po' come dire antipatica da parte di alcuni colleghi non di tutti altri sono stati disponibilissimi ne cito una perché vi ho fatto sentire per chi l'ha sentito ma insomma la questione è che quando ha parlato con un collega giornalista ovviamente perché era il capo dell'ufficio stampa quello gli ha risposto ma scusa ma perché hai fatto la richiesta a foglia chiedemelo e io te li davo adesso però hai fatto la richiesta a foglia a giorni ribaltatela questa questa situazione se non c'è il foglia l'unico modo per avere questi dati ed è quello che tendenzialmente usano tutti i giornalisti è chiamare il loro collega responsabile dell'ufficio stampa nell'amministrazione chiedergli i dati e sperare che ce li dia perché ce li può dare può fare difficoltà oppure può mettere delle condizioni implicite implicite cioè attivare quella che vi ho descritto prima una dinamica di scambio perché questo responsabile dell'ufficio stampa perché adesso lui questa dinamica non la può più attivare lui glieli chiede e loro glieli devono dare aia ora questo dice tutta una serie di cose sulle quali non è il caso di approfondire sul fatto che aver messo i giornalisti a fare i responsabili degli uffici si è alimentato una certa relazione fra il dentro e il fuori potremmo stare qui a discuterne per un po' di tempo io invece preferisco sottolineare il fatto che una volta che è stato garantito il diritto di conoscere le informazioni non c'è più bisogno di passare attraverso questa strada certo magari ci si farà qualche antipatia presso i propri colleghi presso gli uffici stampa ma delle informazioni abbiamo diritto e riusciamo a ottenerle senza dover dare qualcosa in cambio il che vediamo se riesco a tornare indietro il che ci dà qualche spazio di libertà in più che prima non avevamo o che eravamo costretti a consumare nello scambio con il collega di turno responsabile dell'ufficio stampa non una cosa da poco ok funziona questa roba cioè dopo che tu ci hai descritto le potenzialità in Italia è un istituto molto recente ha cominciato a funzionare a gennaio del 2017 quindi è appena un anno e mezzo che sta funzionando e quindi è legittima la domanda da parte di chi fosse interessato a utilizzarlo effettivamente metterlo nella cassetta degli attrezzi stabilmente ma questa roba che ci stai raccontando funziona oppure no? Ha funzionato fin qui in Italia nel corso di questo ultimo anno e mezzo? Non ha funzionato il fatto che non abbia funzionato è reso evidente ma sostanzialmente nessuno ha alzato la mano voi neanche sapete che esiste figuriamoci se poteva funzionare questi dati sono i dati del monitoraggio dell'autorità nazionale anticorruzione che per una serie di vicende è l'amministrazione che si occupa un po' dell'applicazione del foglia e vedete che su 826 domande di accesso ai dati pervenute fino al maggio del 2018 ai ministeri stiamo parlando solo dell'amministrazione centrale le domande provenienti da soggetti che si sono qualificati come giornalisti sono il 3% in giornalisti in Italia questo strumento non lo stanno utilizzando va bene allora io vi chiedo scusa per avervi come dire fatto perdere una quarantina di minuti la cosa non ha senso ciao altrove funziona e funziona la grande questa che vedete è l'opinione dell'uomo politico di governo che ha introdotto il foglia in Inghilterra faceva parte della piattaforma elettorale del New Labour quando ha preso ha vinto le elezioni nel 97 una delle cose che Tony aveva promesso agli inglesi era vi darò il Freedom of Information Act una cosa abbastanza devastante perché l'amministrazione pubblica inglese era dominata da secoli di tradizione di secrecy che era un principio incrollabile questa è l'opinione dello stesso Tony espressa nella sua autobiografia del 2010 a proposito della sua scelta di aver dato il Freedom of Information Act agli inglesi chi lo usa il Freedom of Information Act in Inghilterra i giornalisti cosa pensa dell'uso che ne fanno i giornalisti è come se questo è quello che pensa Blair è come se ci fosse qualcuno che ti sta bastonando in testa con un bastone e tu gli dicessi no prova con questo e gli dai una mazzetta questa è l'idea che si è fatto Blair dell'effetto del Foglia nel suo ordinamento tant'è che la descrive come un'arma se io fossi un giornalista sarei straordinariamente fiero di questa opinione da parte di un governante questo meccanismo funziona sì allora l'associazione dei giornalisti dico bene ONA vuol dire online come benissimo l'anno scorso tra le inchieste che sono state premiate ce ne sono quattro che sfruttano il Freedom of Information Act ne hanno premate dieci in tutto quattro sono basate sulla richiesta di documenti questo è un esempio statunitense il fatto che due terzi dei dottori che hanno avuto delle inchieste per abusi sessuali dopo torna a esercitare la professione il fatto che nelle carceri statunitensi si muore in modo non non del tutto chiaro il fatto che in Canada c'è una percentuale maggiore di incendi che non ricevono incendi casalinghi che non ricevono adeguato supporto da parte dei vigili del fuoco nella First Nation cioè presso gli indiani nativi del Canada permettimi benedetto di aggiungere solo un secondo che la più clamorosa una delle più clamorose è il waterboarding a Guantanamo è un foglio anche quello anche quello è un foglio questo però negli Stati Uniti per tornare all'Inghilterra qui ci sono alcune delle migliori storie pezzi di cronaca e di inchiesta che nel 2017 sono uscite su giornali in televisione eccetera in Inghilterra basate su richieste e foglia ce ne sono alcune molto carine per esempio attraverso questa qui attraverso una richiesta foglia alla commissione elettorale inglese si è scoperto che nella legislazione che regola il finanziamento delle campagne elettorali inglesi nei referendum c'è qualcosa che non va perché è possibile aggirare o superare i limiti imposti ai soggetti che si registrano per fare la campagna elettorale rispetto alle spese che si possono fare ma insomma gli esempi per esempio quest'altro link tanto queste cose ve le lascio questo è un articolo del 2015 del guardian il guardian fa il punto di quali sono le migliori storie pubblicate nei media inglesi basate sul foglia le migliori 105 105 foglia in inghilterra è attivo dal 2005 non dal 66 quindi come dire la domanda si può fare si 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 può fare si può fare non solo si può fare ma può diventare uno strumento efficace perché se Tony Blair la pensa così dopo che era stata una sua idea introdurla vuol dire che è qualcosa di veramente potenzialmente potente mi sarei aspettato da quelli che l'avessero conosciuto già che mi dicessero si va bene ma è molto complicato perché comunque non è che si può conoscere tutto perché la legge giustamente prevede una serie di eccezioni perché c'è la tutela della riservatezza c'è la tutela dell'interesse nazionale alla difesa le transazioni monetarie i segreti commerciali cioè ovviamente uno chiede l'amministrazione la legge prevede una serie di meccanismi per verificare se per caso quell'informazione non merita di non essere divulgata perché occorre proteggere altri interessi benissimo allora uno però questi problemi se li fa dopo quando l'amministrazione ha detto di no non è che se li devi fare prima cioè come atteggiamento professionale c'è da qualche parte un'informazione interessante chiediamola poi se l'amministrazione ci dice di no a quel punto potremo come dire avremo la giustificazione per cominciare a preoccuparci a proposito di come fare a conoscerla lo stesso se l'amministrazione ha ragione ci sono gli strumenti per fare ricorso eccetera in ogni caso quando l'amministrazione vi dovesse dire di no non vi può dire no vi deve spiegare perché no e quando l'amministrazione vi spiega perché deve indicare quale interesse pubblico o privato sta proteggendo non divulgando l'informazione che comincia a essere già una notizia alcuni vostri colleghi per anni hanno chiesto alla MEF Ministero dell'Economia e Finanze di vedere i contratti con i quali sono stati stipulati una serie di derivati dal 94 in poi per la gestione del debito pubblico una partita nella quale l'Italia ha perso una cifra variabile fra 20 e 50 miliardi di euro e tendenzialmente prima del FOIA il MEF rispondeva così tu non hai diritto di conoscerlo perché non c'era la legittimazione soggettiva il giornalista non aveva bisogno di conoscere quella informazione il che sarebbe contestabile ma il Consiglio di Stato è sempre stato d'accordo con questa tesi adesso quando glielo hanno chiesto il MEF ha dovuto rispondere ha detto se te la facciamo vedere questa informazione metti in pericolo la capacità dello Stato italiano di contrattare condizioni vantaggiose nella gestione del debito pubblico e contemporaneamente metti in difficoltà le agenzie le banche che contrattano con lo Stato perché alteri la concorrenza cioè secondo il MEF questi atti questi contratti di gestione del debito non si possono vedere perché si mette in difficoltà sia una parte contrattuale lo Stato che le altre parti contrattuali no non può cioè è una motivazione che di per sé è illogica non puoi mettere in difficoltà entrambe le parti contrattuali o ne metti in difficoltà una o metti in difficoltà l'altra che fai metti in difficoltà entrambe perché non riescono a contrattare io quella risposta adeguatamente commentata da un economista finanziario la pubblico è già una notizia perché mi ha detto di no è già una notizia dopodiché certamente ci sono una serie di complicazioni burocratiche a chi faccio ricorso dentro l'amministrazione se l'amministrazione mi ha detto di no quanto tempo ha per rispondere come faccio a capire se la motivazione che mi ha dato è giustificata e quindi è meglio che lascio perdere oppure è ingiustificata e posso andare avanti le tecnicali ci sono possono tranquillamente entrare nel bagaglio professionale di un giornalista e una volta che ci sono entrate diventano qualcosa che nel mercato si spende perché come dire io come si fa a tirare fuori io giornalista che l'ho imparato non io Benetto Ponti questa cosa la posso offrire o guardate che io come si fa a tirare fuori le informazioni lo so altra obiezione sì ma la PA la pubblica amministrazione è chiusa è ostile le cose non me le vuole dare è inutile che gliele chiedo perché perdo tempo non ottengo nessun risultato al massimo guadagno un po' di frustrazione la pubblica amministrazione non esiste esistono le pubbliche amministrazioni le pubbliche amministrazioni sono tante sono diverse tra loro molte amministrazioni fanno lo stesso mestiere e chiedere gli stessi dati a più amministrazioni che ti rispondono diversamente diventa uno straordinario strumento per premere su quelle che non ti hanno risposto per farlo il pluralismo amministrativo dal punto di vista del foglio è una grande risorsa che andrebbe sfruttata che è quello che hanno fatto i pochi che hanno utilizzato questi strumenti perché dopo che avevano ottenuto un'informazione dall'amministrazione andavano dall'altra che gli aveva detto di no ma com'è che loro me l'hanno data e tu no come vogliamo fare però qui cominciare a smontare questo sì che è un mito l'amministrazione non esiste esistono tante amministrazioni dove lavorano tante persone diverse con sensibilità diverse e meritano di essere provate messe alla prova seconda cosa non siete solo non sono solo i giornalisti che devono imparare a usare questo strumento lo devono imparare anche le amministrazioni i pochi esempi che vi posso citare per l'Italia dimostrano che nel corso del tempo l'atteggiamento dell'amministrazione tende a cambiare la prima volta che gli chiedete un'informazione siete un barbaro con un'accetta in mano la seconda volta già sanno di che si tratta la terza volta hanno visto che non è morto nessuno e così via cioè non siete soltanto voi giornalisti che se decidete di utilizzare questo strumento nel corso del tempo apprenderete a utilizzarlo la stessa identica cosa avverrà per le amministrazioni certo che se non cominciamo questo meccanismo non si svilupperà mai per cui poi se ci sono domande sono qui per rispondere per cui anche sulla base delle esperienze all'estero che ho potuto ho cercato di farvi vedere poi se volete approfondire c'è tanto per approfondire vale la pena vale la pena di provarci arrivo tu 45 mi hai dato e io 45 ho fatto buongiorno dunque la domanda è questa io ho avuto la prima foia che ho fatto premesso sono iscritto all'ordine giornalista ma faccio il dottore commercialista ho richiesto a un ente locale di poter avere accesso dei dati e l'ho richiesto su un arco temporale abbastanza lungo 10 anni allora la prima eccezione che c'è stata è che loro questa richiesta non l'avevano vista l'avevano spedita via PEC e in prima battuta ho fatto ricorso all'ente superiore che è il garante regionale dell'anticorruzione il quale mi ha detto nella norma non è previsto che tu venga prima da me tu devi andare prima dall'ente sovraordinato del comune che è responsabile dell'anticorruzione io ho fatto l'istanza al segretario del comune di Sanremo il quale mi ha dato accesso contrariamente all'ufficio l'ufficio quando è stato intimato diciamo così dal segretario comunale di darmi i dati ha posto un'eccezione di questo tipo riconosciamo che tu hai diritto a quei dati però se vuoi avere questi dati vieni da me e solo in orario d'ufficio vieni qui da me e te li vai a cercare tu in sostanza allora voglio sapere se questo comportamento è un comportamento legittimo perché il concetto è questo nella norma è previsto che loro non debbano elaborare i dati dei quali non sono immediatamente in possesso grazie allora innanzitutto la prima ne prendiamo un'altra così poi dopo solo nei giorni dispari e quando piove anche c'erano le altre norme ma non le sono state dette naturalmente grazie io ho ancora un problema un po' più complicato perché oltre a essere un cittadino e un giornalista occupo anche una carica pubblica sono un consigliere comunale mi è capitato dopo l'uscita del FOIA di provvedere a fare un accesso agli atti di una società partecipata al 100% del comune ma dati abbastanza banali numero di maestranze complesso di dati diciamo molto banali in cui io addirittura ponevo l'accento sul fatto di non aver bisogno di nomi cognomi dati sensibili ovviamente non mi sono stati a distanza di tre anni consegnati i dati sulla base del fatto che la partecipata si riteneva un'istituzione di diritto privato in più ho fatto ricorso al segretario generale del comune il quale aveva provveduto a trovare una soluzione del tipo di quella propinata al signore del tipo vai un'ora al giorno presso gli uffici quando eccetera io addirittura come avendo un diritto di accesso aggravato rispetto ai cittadini ho presentato un ricorso al prefetto questa cosa però non ha sortito effetti cioè non è andato avanti perché ovviamente i prefetti hanno cose più importanti di preoccuparsi e credo che sia finita in qualche meandro di qualche ufficio quindi la mia domanda è se è difficoltoso per un pubblico ufficiale se è difficoltoso per un giornalista per un semplice cittadino per cui la norma è stata diciamo possa in essere principalmente perché io l'anno scorso ero ai Dicidal Days in reggia la ministra Madia in persona aveva spiegato la razio del foia e dico come potrà mai funzionare nel nostro paese una norma di questo genere cosa ci dobbiamo aspettare come ci dobbiamo porre per farla funzionare soprattutto come giornalisti che hanno delle responsabilità particolari grazie allora altre domande altre domande non mi pare vai aspetta gli do il microfono anche al pastello sta buono sta buono sta buono se no non vieni nelle registrazioni buongiorno Vittorio Pastello buongiorno quanti di voi hanno fatto una richiesta a foia che siano giornalisti fra i presenti tu l'hai fatta più da commercialista che da giornalista con doppio cappello poi avevi anche un però tu avevi anche un utilizzo di terminologia di uno che sapeva bene la materia quel che hai detto prima era solo perché ecco la domanda è perché non conoscevate come dire l'istituzione perché lo ritenete inutile o perché siete abituati a vivere in un paese in cui la norma è del non vedere fine della domanda tutto perché non lo conoscono l'ho chiesto all'inizio allora provo a rispondere non è vero che bisogna prima rivolgersi al responsabile per la trasparenza si può andare direttamente al garante se c'è insomma al difensore civico a chi ne fa le veci a livello regionale non è così dieci anni sono tanti mi sarei aspettato una risposta del tipo è una richiesta massiva che è una delle motivazioni per le quali l'amministrazione risponde di no ci costa troppo tempo personale quindi no invece come dire il fatto che comunque sia stata individuata una modalità pratica per accedere alle informazioni in qualche modo andrebbe sfruttata invece che come dire siccome l'arco di tempo è importante ci si potrebbe lavorare magari rispondendo dicendogli guardate non me le date tutte insieme prendetevi che ne so tre mesi e ogni tanto me ne mandate un po' per distruttare le energie benissimo questa domanda l'ha fatta come consigliere comunale no ma ha usato l'accesso dei consigliere benissimo allora primo il ricorso al procuratore della repubblica per omissione di atti d'ufficio i ricorsi al tar per i dinieghi di accesso di tutti i tipi non prevedono la necessità dell'assistenza legale non vi dovete procurare un avvocato certo c'è sempre il contributo unificato che non è poco però come dire a un certo punto se si ritiene che quella informazione sia molto importante o si ritiene che anche in termini di relazione segnare il punto sia importante si va al tar siccome però lei è anche giornalista io un bel articolo sul per che il comune non fornisce le informazioni relative a una partecipata indicando quali sono le informazioni richieste e il tempo trascorso comincia a essere una cosa di un rilievo metto la totale ignoranza su tutto questo mondo molto interessante non ci sono obblighi temporali cioè la pubblica amministrazione non è costretta a rispondere entro un determinato tempo e se poi mi è sembrato di capire che i tempi sono molto lunghi cioè alla fine questo poi vanifica un po' anche quello che la tempestività della notizia essendo il nostro ormai un lavoro che viaggia a velocità anche assurde anche contro il nostro stesso interesse però aspettare tre mesi un'azienda cioè non tutti solo possono una pubblica amministrazione non tutti possono permetterselo l'amministrazione ha 30 giorni per rispondere i monitoraggi fatti fino adesso ci dicono che nell'80% dei casi ormai le amministrazioni tendono a rispondere entro i 30 giorni non a rispondere positivamente ma a fornire una risposta per cui diciamo l'orizzonte temporale tendenziale sul quale ci si può basare è 30 giorni dopodiché se uno vuole utilizzare il foglia per fare la notizia che ha valore perché è tempestiva forse non è lo strumento giusto stiamo parlando di uno strumento che è più adatto a come dire un lavoro giornalistico di respiro più ampio di inchiesta e quindi i 30 giorni cominciano a non essere da questo punto di vista un vero un problema vero poi ovviamente aspettare comunque è però quello che diceva quel vostro collega prima è molto significativo cioè una cosa è va bene tu entro 30 giorni me li devi dare una cosa è te li do vediamo parliamone sono proprio due orizzonti diversi e cominciare a fare i conti con un orizzonte nel quale io aspetto 30 giorni ma quei dati se ho diritto di averli ce li avrò è una cosa sulla quale uno può cominciare a ragionare ecco almeno questo era la come dire la il tipo di di stimolo che volevo offrirvi provare a offrirvi questa questa mattina grazie per la vostra attenzione grazie 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 grazie